È scattata l'operazione europeo per le azzurrine dell'Under-19 femminile. Nel centro di preparazione olimpica di Fornia, la nazionale di Enrico Sbardella sta preparando in questi giorni la fase finale del campionato europeo in programma in Svizzera dal 18 al 30 luglio. Ieri le azzurrine hanno ricevuto la visita del commissario straordinario della FGC Roberto Fabricini, che ha sottolineato la crescita esponenziale del calcio femminile italiano, come dimostrato anche recentemente dalla qualificazione dell'Italia di Milena Bertolini ai prossimi mondiali. Io vorrei dire che sono molto bravi queste ragazze, giocano tutte quante ad alto livello, sono qui a Formia con un grande impegno per preparare questa fase dei campionati, partiranno tra poco per la Svizzera, ma soprattutto credo che sia tutto il movimento femminile che merita grande attenzione per quello che ha dimostrato di saper fare, al di là della qualificazione ottenuta ai mondiali della squadra A, è proprio tutto il movimento che è in grande crescita, in grande livello. Di questo dobbiamo dire veramente grazie alle società che si impegnano fortemente con professionalità e anche con grande dovizia di impegno. Insieme al direttore generale Michele Uva, a fare un in bocca al lupo alla squadra prima della partenza, fissata per lunedì, era presente anche il vice commissario Alessandro Costa Curta, abituato da calciatore a questi tipi di appuntamenti. Io le sto solo invidiando, perché ho passato questi momenti e sono momenti bellissimi, l'unica cosa che cercherò di condividere è proprio questa bellissima emozione che stanno vivendo, perché devo dire che i miei ricordi più belli sono appunto questi ritiri pre-fasi finale. Nella tarda serata di domenica poi il tecnico dell'Under-19 Enrico Sbardella ufficializzerà i nomi delle 20 azzurrine che parteciperanno alla fase finale del campionato europeo. Deci anni dopo il titolo conquistato in Francia, le azzurrine faranno il loro esordio mercoledì 18 contro l'Olanda, sabato poi la sfida alla Danimarca prima di concludere la fase a Gironi, martedì 24 luglio contro la Germania. Il primo obiettivo sarà quello di classificarsi tra le prime due del gruppo per entrare così a far parte delle prime quattro d'Europa.